Per me è un segno di ricordo, di riconoscenza Per ritornare a un fatto storico che è stato liquidato superficialmente Cioè il genocidio di un milione di persone Dove Romeo Daler ha chiesto l'aiuto dell'ONU per intervenire E questa richiesta di aiuto è stata ignorata completamente È un ricordo molto forte, molto vivente Le persone che hanno vissuto quelle tragedie sono ancora traumatizzate Perché hanno dovuto e devono vivere con magari i propri assassini Quindi oggi, essendo il primo giorno proprio di inizio di questo periodo commemorativo I traumi passati riaffiorano E in Rwanda si ritrova a dover fare comunque fronte a quella storia A quei momenti così difficili da superare Molti sopravvissuti vengono anche uccisi successivamente Perché magari ci sono anche degli assassini che si vogliono pulire la coscienza Hanno paura che siano ancora denunciati Per cui è una strage che non finisce ancora Che noi dobbiamo costituire una memoria attorno a questa strage Il Paese sta cercando di riprendere una vita comune Di intraprendere un cammino della riconciliazione Il cammino è lungo I giorni di memoria come questi servono anche per Non liquidare velocemente quello che è stato Il progetto sicuramente sarà una cosa molto favorevole Molto forte perché aiuterà a capire che ognuno può esercitare una scelta Una scelta di no seguire la massa Soprattutto quando si tratta di un crimine come il genocidio Quindi sarà un momento per riconoscere i giusti Quindi le persone che hanno osato Hanno avuto il coraggio di opporsi al male nei momenti bui E quindi aiuterà a insegnare ai giovani A noi stessi il valore del coraggio Di dire no all'orrore